momenti ragazzi siamo tornati in quest'ultimo episodio di The Matrix Burn of Mio primo scontro con Smith cacci le mosche Smith non puoi fermarmi signor Anderson accetta il tuo destino guardavo se c'era quella cosa qua da prendere e raccogliere qualcosa mi divertirò a vederti morire signor Anderson ah si? oh è inutile signor Anderson non hai altro da mostrarmi aspetta mi sto s... aia questo è solo la... il riscaldamento ora c'è il vero combattimento bene in arrivo rimanete dietro la linea bianca ecco cerco di farlo restare vicino qua a dove passa il treno se ce la faccio bene in arrivo rimanete dietro la linea bianca porca vacca nuovo livello di consapevolezza colpo mortale volante maiuscolo 2 se è l'upper cut dovrebbe essere bene in arrivo rimanete dietro la linea bianca non è solo la linea bianca ma qualche adesso passa il treno al millimetro adios non è solo la linea bianca non è solo la linea bianca Ok, non è ancora finita Signor Anderson, lo so che sei lì dentro Sento il tuo odore Addirittura cosa sei un cane? Non hai alcuna possibilità di uscire da qui Questo lo vedremo Ecco Ti prego, aiutami Ehi, non dovresti essere qua giù Devi andartene Si stava trasformando Signor Anderson Le pareti anche qui A-ha! 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 Perfetto ragazzi E il livello è finito Cosa succederà? Non perdetevi il prossimo episodio Quindi Derek per questo episodio di The Matrix Portofunio Derek è tutto vero e quello che senso è ancora scritto Non iscrivetevi se vi vediamo in giornale Se vi vediamo i giornali dei prossimi episodi Scutti giocati Giochi e mettere un bel pochino Subito l'episodio Marconi è la vostra Nei commenti Noi ci sentiamo A un prossimo video Bella!